Buongiorno a tutti, mi trovo a Bè, comune che è diventato di recente famoso in quanto Chiara Ferragni è stata qui in un centro di meditazione che si trova poco più avanti ma in realtà sono qui perché mi è stato consigliato da un mio ex compagno delle superiori Diego Cattaffi che saluto, io in realtà da qui ci sono passato sacco di volte ma non sono mai entrato a vedere l'interno del paese, lui mi ha consigliato di venire e di fare un giro, mi ha detto che ci sono anche diversi punti panoramici per cui adesso andiamo a vedere cosa c'è davvero. Bè è un comune di 745 abitanti nella provincia del Verbano Cusirossola, sulle alture di Verbagna, più precisamente si trova ai piedi del Monte Cimolo e del Monte San Salvatore e si trova ad un'altitudine di 591 metri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono arrivato dal Bagnano e vi volevo salutare con il fantastico panorama che si può vedere da qui, un saluto a tutti e al prossimo video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.